Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo Sani e Gaffur accompagnare Uzum sulla tomba del suo vero padre, assicurandole che ora può comunicare con lui e esprimere il suo affetto, poiché i padri, ovunque siano, ascoltano le parole dei loro figli. Giunti alla tomba, Uzum si inginocchia e rivolge dolci parole al padre mai conosciuto. Esprime il desiderio di averlo incontrato e, se è vicino alla madre, le chiede di dirle quanto le manchi. Tuttavia, rassicura che non c'è motivo di preoccuparsi, poiché a Sani e Gaffur accanto a lei. Pone un braccialetto sulla terra, un prezioso lascito materno, pregando per il padre sconosciuto. Intanto, a Betul si ferma la macchina, e lungo la strada vede l'insegna di un'officina, e sente Kadir alle prese con la ricerca di terreni. Dopo aver ascoltato le sue difficoltà, Betul chiede aiuto per la sua auto. Kadir, grato, invia prontamente operai e la invita nel suo ufficio. Qui, Betul apprende delle ambizioni di Kadir di acquistare vaste proprietà e offre il suo supporto, sottolineando la sua esperienza. Nel frattempo, Luce consiglia a Zuleia di distrarsi e assumere il comando della sua azienda per dimostrare il suo ruolo dominante. Nel frattempo, Betul si prepara per un'importante riunione alla Holding Yaman, dichiarando a Sermin che presto diventerà la nuova capo e avrà il controllo sulle decisioni di Zuleia, che si terrà distante dall'azienda. Sermin, con fiducia, sostiene che ingannare Zuleia sarà facile. Quando Betul fa il suo ingresso in azienda e si dirige verso la sala riunioni, si trova di fronte a una sorpresa sconcertante. Zuleia è lì ad attenderla. Zuleia, con un tono misurato di delusione, le comunica di essere consapevole di aver lasciato tutto il peso delle responsabilità su Betul, ma da quel momento in poi lavoreranno insieme. Betul, costretta a sorridere, le assicura che è felice di accoglierla. Poco dopo, nella stanza fa il suo ingresso a Akan, salutando Zuleia e rivelando di essere Mehmet Kara, il possessore del 25% delle azioni della Yaman Holding. La presentazione spiazza Zuleia e Betul. Akan aggiunge che non ha avuto l'opportunità di presentarsi quando si erano incontrati in precedenza. Betul, stupita, menziona di aver creduto che le loro azioni fossero state acquistate da un certo Akan Gumusoglu. Betul chiede se i due si conoscano, e Zuleia spiega che Akan è l'uomo che l'aveva salvata da uno scippo. Akan viene invitato nell'ufficio di Demir, accompagnato da Zuleia e Betul. Li, spiega che il suo nome non compariva nell'atto di acquisto perché, avendo urgenza di partire all'estero, aveva dato una procura ad un avvocato. Zuleia esprime il desiderio di riacquistare le azioni che ha venduto per una decisione affrettata. Nel frattempo, a Villa Sermin nota che Sanye consegna una busta a un operaio in difficoltà finanziarie. Sermin la avverte di fare attenzione e le insinua di non rubare ora che Demir non è presente, sottolineando che, essendo una Yaman, controlla tutto. Sanye, offesa, è pronta a reagire, ma viene fermata da Luce. Sermin insiste sul fatto che non conosce né Sanye né suo marito, affermando che sono disposti a tutto e pronti ad approfittarsi delle situazioni. Luce cerca di calmare la situazione. Nel frattempo, in azienda, Zuleia si rivolge a Akan, dichiarandosi disposta a pagare una somma considerevole pur di riavere le azioni vendute a causa di una sua decisione sbagliata. Akan risponde con comprensione e gli spiega il motivo per cui è a Kukurova ed è lì per investire e ha acquisito solo le sue azioni. Successivamente, Akan sottolinea che la sua presenza potrebbe essere un vantaggio per affrontare le sfide delle aziende familiari. Propone quindi una collaborazione più stretta e l'espansione delle loro attività insieme. In un secondo momento, Betul informa Kadir che non può più vendere la terra concordata in precedenza. Kadir, visibilmente alterato, sostiene che avevano già accordato tutti i dettagli, inclusi i prezzi. Betul rivela che Zuleia è tornata in azienda e, se anche Demir ritorna, la vendita non può essere completata. Kadir suggerisce di eliminare entrambi, e Betul accetta. In seguito, Betul comunica a Kadir l'arrivo del nuovo proprietario delle azioni e la necessità di agire con cautela. Kadir rivela che sono soci e che, collaborando, entrambi guadagneranno. Betul lo avvisa del controllo del capo della contabilità, e Kadir promette di occuparsene. Nel frattempo, Sanye, agitata, confida a Luce che Sermin sta cercando di ingannare Zuleia manipolando le situazioni. Luce risponde sottolineando l'intelligenza di Zuleia e la sua incapacità di essere ingannata. Nel frattempo, Sermin riorganizza il salotto di Zuleia senza il suo consenso, suscitando perplessità da parte di Rashid. Luce interviene chiedendo a Sermin di attendere l'approvazione di Zuleia prima di apportare modifiche. Sermin, arrabbiata, le dice di non interferire, sostenendo che la villa appartiene a suo zio. Luce le ribatte che la villa è di Zuleia, ma Sermin afferma di essere della famiglia Yaman e cerca di aiutare Zuleia. Sermin accusa Luce di essersi stabilita nella villa per impossessarsi di tutti i beni degli Yaman. Betul interviene chiedendo spiegazioni, ma Sermin continua a inveire, sostenendo che l'ospitalità ha un limite e che Luce e la sua famiglia devono andarsene. Betul cerca di zittirla e si scusa ripetutamente con Luce, visibilmente sconvolta. Betul riesce infine a portare via sua madre mentre accorrono Sanye, Gulten e Rashid. Quest'ultima dichiara che Sermin è fuori di sé, mentre Luce, sconvolta, la definisce una donna vile e maleducata che parla solo per ferire gli altri. Sanye spiega che Sermin ha sempre agito così e le dice di sapere come trattare persone del genere. Una volta a casa, Sermin, ancora arrabbiata per essere stata portata via, afferma che Luce, insieme a Fekeli e Fikret, sta mirando alle ricchezze degli Yaman. Betul, indignata, le ricorda di averle assicurato di prendere sia le ricchezze degli Yaman che quelle di Fekeli. Tuttavia, Sermin accusa Luce di volersi appropriare della villa. Betul ribatte dicendo che sposerà Fikret e le intima di non interferire, avvertendola che se rovinerà il suo piano, diventerà la sua nemica. Nel frattempo, Akan è con Kadir e gli rivela che Betul è preoccupata per la sua presenza. Kadir la rassicura dicendole che sono soci. Akan chiede se le ha detto la verità, e Kadir assicura di no. Kadir poi avverte Akan che Betul è una minaccia nascosta all'interno di Zuleyha, e devono stare attenti perché è una donna pericolosa. Zuleyha discute con Fikret e Fekeli di Mehmet Cara, spiegando che è venuto a Kukurova per investire, ritenendolo il luogo ideale. Fekeli le chiede se le ha proposto di riacquistare le azioni, ma lei risponde negativamente, sottolineando che ha offerto di unirsi a loro per fare investimenti ancora più significativi. Zuleyha menziona anche il suo interesse nella produzione di tessuti di cotone, suscitando commenti da parte di Fikret sulla sua attenzione alla loro azienda. Nel frattempo, Betul ha preparato del cibo da portare per una cena con Zuleyha e ordina a sua madre di chiedere scusa a Luce di fronte a Zuleyha per evitare ulteriori tensioni. Inizialmente riluttante, Sermin alla fine cede e compromette la cena sputando nel piatto di cibo destinato a Zuleyha. Mentre Zuleyha, Luce e Amin ne stanno cenando, Betul fa il suo ingresso con Sermin, portando un dolce in segno di pace. Sermin chiede scusa a Luce, ammettendo di aver superato il limite a causa della sua rabbia per Demir. Luce risponde che tutti sono frustrati per la situazione di Demir, ma non dovrebbero offendere gli altri. Betul interviene sottolineando che sua madre talvolta parla senza conoscere appieno ciò che dice, ottenendo il consenso di Luce. In quel momento, una macchina arriva, e Zuleyha spiega che è Mehmet, ovvero Akan. Quest'ultimo consegna a Zuleyha un documento che le permette di utilizzare la sua firma quando è in viaggio. Zuleyha, sorpresa, gli chiede se è sicuro di concederle tale autorità, e Akan risponde con piena fiducia in lei. Improvvisamente, Amin ne riconosce Akan come colui che ha cenato nella loro casa di campagna con Demir. Akan rimane sorpreso e senza parole, mentre Zuleyha spiega che è la nonna di Demir, che talvolta confonde le cose, chiedendo scusa per l'errore. Akan, imbarazzato, declina l'invito a cena e se ne va. Successivamente, arriva Fikret, e Zuleyha gli racconta della visita di Akan. Fikret, perplesso, dubita che concedere il diritto di firma a una persona appena conosciuta sia una mossa saggia. Esprime la sua preoccupazione sul fatto che tali pratiche dovrebbero avvenire durante il giorno, non di notte in una villa. Akan, tornato da Kadir, lamenta di essere stato riconosciuto da Amin e teme che si ricordi della cena. Kadir gli consiglia di negare sempre e di far credere alle persone che lui sia più affidabile di un'anziana afflitta da demenza. Akan, preoccupato, ascolta attentamente. Fikret, rimasto solo con Zuleyha, esprime il suo sospetto riguardo alle intenzioni di Akan, ritenendo strano che abbia concesso il diritto di firma lo stesso giorno in cui l'ha incontrata. Gli fa notare che, sebbene Akan sia un uomo d'affari, non ha mai concesso a Cetini il diritto di firma, nonostante la loro stretta amicizia. Pertanto, sospetta che ci sia un tranello dietro questa decisione apparentemente prematura. Zuleyha esprime la sua gratitudine a Fikret per essere sempre al suo fianco e promette di essere sempre grata. Fikret le assicura che sarà sempre a sua disposizione. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio sapere di più, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!